Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il BV1 variante di Varico. Su via Bolognese a Firenze fino al 10 settembre sarà rinnovato l'acquedotto nel tratto compreso tra il civico 102B e l'incrocio con via di Montughi. Fino al 16 ottobre è possibile nuovamente accedere alla promozione bonus TPL Firenze per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale. Per la richiesta accedere alla sezione Parti con noi dell'app IF. Lunedì 9 settembre sciopero del trasporto pubblico locale di 8 ore in Toscana dalle 14.30 alle 22.30. Bus e biglietterie potrebbero subire disservizi in base alle adesioni. Domani sciopero nazionale del personale ferroviario. Possibili disagi, cancellazioni o variazioni. Ci saranno alcuni treni garantiti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Grazie a tutti